commosso, rivela la verità, Belen mi ha abbandonato. Prima di introdurre l'argomento, vorrei sottolineare quanto sia importante cliccare sul pulsante iscriviti e mettere un mi piace. Queste azioni, seppur semplici, sono molto importanti per sostenerci e motivarci. Grazie infinite per il tuo coinvolgimento. Ora, andiamo a discutere un argomento che sta facendo molto parlare di sé. La situazione di Stefano De Martino, celebre presentatore televisivo di Rai 2, che si trova nel mirino del gossip a causa della sua relazione con la rinomata Belen Rodriguez. Sembra che il loro legame sia arrivato al capolinea a causa di alcuni recenti sviluppi, e i media non hanno perso tempo nel cercare di svelare ogni aspetto di questa faccenda. Tra i molti rumor che circolano, un sito di gossip, Dago Spia, ha divulgato un dettaglio segreto riguardo Stefano. Pare che il presentatore partecipi a vari eventi in discoteca, ottenendo in cambio un cospicuo compenso. Ciò che è interessante in Italia è che Stefano sembra mantenere un atteggiamento riservato su queste apparizioni, evitando di promuoverle sui suoi social media. È stato ipotizzato che ciò possa essere per salvaguardare la sua reputazione di figura prominente di Rai 2. Nel frattempo, la vita sentimentale di Stefano De Martino continua a essere al centro dell'attenzione. La sua ex moglie, Dolan Rodriguez, ha attirato l'interesse dei media essendo stata fotografata in compagnia di un imprenditore di Brescia di nome Elio Lorenzoni. Le foto pubblicate su chi mostrano i due in atteggiamenti affettuosi, addirittura scambiandosi un bacio. Insomma, il mondo del gossip è sempre in ebollizione, e queste storie ci offrono una visione nel complicato mondo delle celebrità. Ricordiamo sempre di trattare queste notizie con la dovuta prudenza e rispetto per la privacy delle persone coinvolte. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi di questa storia e vi terremo aggiornati su qualsiasi novità riguardante Stefano De Martino, Belen Rodriguez e tutti gli altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Rimanete connessi con noi per altre notizie emozionanti in tempo reale.